Tutto nero, ora risolviamo subito, eh, Charlie? E io sono obbligato a giocare il turno. Eh, ti gioco, perché se no lo perdi. Sì, sì, te gioco, io intanto ricatturo a finestra. Cinque dadi per farmi uscire una luna, ragazzi, vediamo un po'. Ok, adesso siamo adesso. Riconnessione in corso. Ma mi ha crashato ogni cosa. Ah, mi ha dato a FK di qua. Ah. Eh, eh. Tanto no, il tuo turno non è stato, eh. Eh, no, so crashato pure da qui. Dobbiamo, dobbiamo ricominciare, quindi. Ho lasciato pure da qui, rinvitatemi, faccio una corsa a vedere se non fosse il router, però, boh. Eh, vabbè, riniziamo, dai. Uscite. Eh, certo, perché Maser è in vantaggio, eh, certo. Ricominciamo. Non era cambiato nulla. Non è vero, ho vinto la missione. È il pericolo. Boh, non ci sono forme di vita nel router, quindi, va bene. Ah, è proprio crashato Streamlabs, boh. Eh, ok, grazie mille OBS per la tua affidabilità. Io ricordo che... Ma non è che era roba di server di Streamlabs, non lo so, roba... Non lo so. Io ho letto solo se vuoi continuare a streammare, premi sì, se no premi no. Ho premuto sì e mi ha chiuso. Eh, appunto, per quello, appunto... Cioè, non me l'aveva mai dato quell'errore, capito? No, appunto, ma infatti dico, ti ha detto vuoi continuare a streammare, quindi... Eh, io gli ho detto sì pure, però crasha... No, se crasha non ti dice, non ti chiede per favore. Se crasha, crasha. Non ti chiede per favore, ho capito, però non capisco comunque... Mi confermate che siamo in live adesso, ragazzi, perché io non... Sì, sì, siamo in live, siamo in live. Siamo in live. Sì, arrivato meglio. Ma a me continua a caricare... Ok, sì, siamo in live. No, no, sì, siamo in live. Eh, posso dire maremma puttana? No, vuol dire maremma sporca. Proprio lezza, proprio pensere, me... Proprio la cade a pezzi mavcio. Unza, proprio. Vi ricordiamo che non siamo in alcun modo affiliati a Zebottanzano e che non lo saremo mai. Finché non ci paga abbastanza. Esatto. Si, che è de... La musica è del kebab. La compagnia è del kebab. La compagniera è del kebab. Io la cameriera ha un po' di kebab nel verità. Facciamo l'unboxing. Allora, ora ve lo dico... Ecco il nostro l'autopast. Questa ho messo in re folle, ovvero ogni notte gioca almeno otto pericoli in giro per la... Ma perché Luca ti piace leccare il sottopalle dei cani? Eh, Luca, me lo spieghi perché. Maremma impestata. Guardi, tenevo la... Vaffanculo, sì, ok, dobbiamo giocare... Dobbiamo giocare duro, perfetto, giocheremo duro. Andate affanculo, vi schiatto la testa. Ma se cazzo vuoi, l'avevo fatto io, eh? No, io volevo giocare a purificazione, adesso invece giocherò al contrario. Facciamo il Dark Lord, facciamo il Dark Lord, cazzo. Ma ti sembro io quello che lecca i cani, eh? No, i cani lecca, ci sappiamo bene. Eh, ma sì, però non si può dire, capito? Non si può dire, certo che si può dire. Tanto non ci arriverà a 33 anni, Luca. Sapete che io ho scoperto oggi, ho fatto caso oggi, che io e Luca abbiamo le stesse iniziali. Davvero, Dado? Eh, sì. Sì, Luca, no? Non sono autistico, non faccio caso a queste strozzate, scusami. Leonardo Spadoni. Leonardo Spadoni. Ai lui, stai... Luca, stai... Luca, stai... Ragazzi, sto andando per togliermi la vita. Spesso, Luca, stai mi anche le stesse lettere. Luca, ma se non senti bestemmiare Dado, non ti sento soddisfatto? Luca, sei una vergogna. Luca, ma che cacchio, sei proprio una brutta persona. Masi, esci dall'arena dopo aver battuto il pizzaiolo, punto interrogativo. Come cazzo vuol dire? Penso che Simo abbia trovato le medicine di sua madre. Eh, ma le ha mischiate alle M&M's, scusami. Ha aperto lo stipetto sbagliato, quindi. Pericolo Dado. Che vuoi da me? Comunque, lo dico adesso, siamo tantissimi. Luca, se sei invisibile, vedo il cazzo, vedo. Ah, e niente. Dopo questa live qui. Eh sì, ragazzi. Dopo questa live qui, mi raccomando, c'è la notturna di Aero. Dopo mesi e mesi di peripezia, finalmente, tornano i piedi. Quindi, mi raccomando. Si, 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 arriva al video di Moncio Masa. Certo che non è... Io non esco dall'arena, perché quello poi devo... Io devo diventare uno dei maestri pizzaioli, Simo. A parte che, diciamo tutto, al massimo io posso già stare nell'arena. Perché io sono un maestro pizzaiolo. Brutta testa di cazzo. Anche Masa ha trovato le medicine scadute. Ne ha lasciate stare. Ma se sai fare la pizza? Certo che soffa la pizza. Come la fai? Col cazzo. Allora va bene. Come vuoi che si faccia la pizza? Fai l'impasto, lo srodoni. Ci metti il pomodoro, ci metti la mozzarella, schiaffi nel forno e aspetti. Aero, chiedere a Napoletano di soffare la pizza come chiede... Aero, Aero, Aero. Aero, chiedere a Napoletano di soffare la pizza come chiede di soffare un motorino. Allora, se poi vedete una cazza a cena, ragazzi, adesso ve lo dico io. Quando prendete l'impastino, però a palla prima di stendere, ci sbordate e fate il famosissimo cornicione ripieno. Perché quella sicuro il 99% ragazzi non è ricotta. Ma se cosa ne pensi delle sfaccelle? Io penso che le sfaccelle, cazzo, le hai detto in live, ancora non le ho fatte. Aero, perché mi fai prendere? Pensavo fosse una persona importante, Aero. Aero, qualcuno. Re subo il giorno della mia live, hai visto? Hai visto, Aero, che merda che sai? Io non ho neanche più la sub, Aero. No, 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 non l'ero subato nella mia live, se non sarebbe stato molto triste. Aero, Aero, io sono coerente almeno, non ho la sub. Eh, ma è scaduta e sono povero. Che tra l'altro fra... Guarda quanto sono figlio di puttana, Dato, guarda, guarda. Gli ho tirato una lancia in faccia. Un'accia. E adesso combattiamo! Vediamo il combattimento incredibile. Ah no, aspetta, l'ho sbagliato. Ma che bella di Mase. Allora. Questa è la colonna sonora di Fortnite, il GDR. Se dice, questo mese finisce Big Ben Teori, sto già piangendo. Allorollo, per quanto mi sia piaciuto Big Ben Teori, dico finalmente. E vabbè, Mase. Che pali, mi prendo un danno. Eh vabbè, dai. Corrompimi! Ah, scusate, si sta muovendo il mouse da solo. Invece sono triste, perché il 12 di questo luglio finisce Giorgio. Di questo luglio. Sì. La roba di... Ah, non ci vuole pure contro il pericolo. Eh sì? Due settimane, no? Meno due di vita di notte, meno uno di vita di giorno. Quindi meno due di vita ti darebbe. Ti dà. Ti dà. Adesso. Vabbè, ho preso tre danni da questo tizio, dai. Dai, MC91 Maserati. Ale vuole un banna istantaneo. Faccio la missione. Yes! Vinta la missione. Vai, è staffa del fuoco dello wild. Ma avevi tutto lì? Alessandro Tacchetti vuol morire. Ma porco! No! È successo una cosa brutta, amici. Che è successo? Volevo equipaggiarmi un oggetto. Sì. Luca, sei invisibile, non ti vedo. Lo so, è... È che palle. Perché prende le personaggi invisibili in live, Maremma, puttana? Non l'ho preso e mi ha trovato l'oggetto che mi rende invisibile. Maremma. Aonna! Bravo, Allù. Coniglio bastard. Le palle del pollo! Ma quando ti lo dice la fatta delle palle del pollo? Quando vanno al... Sono assinto. ...alla trattoria slash pub. Dove monitor mangiare il retto. Dove dice la regola dello sharing. E ogni tanto c'è un charge che sarebbe dato? È un change. È un cambio. È un cambio. Luca, non finisci sto cazzito. È una... È una tassa. È una tassa che va alla... Che serve per pagare la? Cameriera. Mafia. Che bello, ragazzi. Fra due giorni esce l'episodio 2. Scusa, dove hai preso tutto quel prestigio? Tu esimi a testa di cazzo. Ho preso l'amuleto che era due. Raga, ma perché ancora facciamo le live con Luca, noi? Non è infatti... È dato il gol, il gol. È tolto il gol. Il resto trae due magie a tutti gli eroi. Non ne hai meno uno prestigio. Che hai detto, Airo? Ok. Il gol delle donazioni. Il regno. Ogni eroe con putrefazione subisce meno un prestigio. E... Controllo putrefazione. Non... Non so se Mase conta come putrefatto. Perché? Tua sorella è putrefatta. Non serviva da nulla. È perché hai un... Si è buggato di nuovo. Come? Sì? Vabbè, lascialo perdere. Eh no, più che altro c'è a bordo bianco, ma... Che fastidio, no? Che cosa terribile. Ok. No. Lì, no. Ma è sulle montagne, così sei protetto. Eh ma... Poi vado piano. Donate! Non lo state ancora facendo? Donate! Donate! No, è a plurale, Artyom. Donations. Eh sì. Anche se pensandoci potremmo anche mettere un italiano nei comandi. Faccio una pucza. Ayrou, perché non ti fai i cazzi tuoi? Perché non ti fai i cazzi? No, perché io poi me li dimentico. Ayrou, se hai l'Alzheimer, chiedi al tuo dottore di fiducia. Non ho un dottore di fiducia. È in missione dal buon... Il buon dadone. Ci proviamo, dai. 40% di sputtanare. No, 40% di far bene. Non so dove sia la mia missione. Eh, lo vedi sulla mappa. Eh, non la vedi. Sì! Oh, sweet trust. River ha completato la missione, prende più uno prestigio. È una pietra dello spirito. Le palle! Va bene, i comandi sono iniziali, perché sono stati usati dai reali, che è un canale internazionale. Eh, ma quanti comandi abbiamo fatto? Scusami, eh. Eh, vaffanculo, vabbè. Ma non c'era bisogno, potevi tranquillamente perderlo, questo, eh. Sì, no, fatti sti cazzi. L'ho perso. Infatti l'ho perso, appunto. Vabbè, era perdi un cazzo, là. Un schiavo. Un pisello, sì. Quello. Le palle del pollo. Luca, se ci provi, sei morto, morto, morto. No, ma non sto mirando a ucciderti ora. Ok. Sì, sì, Ollo, ogni mer-mer-mer-tedì è che... Eh sì, Ollo, siamo in hype per quello, noi. Eh, dovrebbero essere dieci puntate, adesso. Sì, dieci puntate, undici per chi ha il blu-ray. Perché sono tipo le scene tagliate, il sex tape di Moniz. Non sto scherzando. Dove cazzo è la mia missione? Ah, è a casa di Gesù. Luca, ma perché ti piace il buco del culo a te? Perché ti piace ficcare la lingua dentro il buco del culo? No, no, Luca, io vorrei sapere. Perché la tua passione è il rimming, Luca? Da zero per a Roma, eh che palle, ma appena a volte da un fa il loro dovere, erila. Ma quelle teste di cazzo, mamma di te. Stavo dicendo, oggi ho visto una diretta Instagram di uno dei miei youtuber preferiti, dove è andato a un raduno di terrapiattisti. Come? Ah, io non lo sai, non posso per stermiare in live, su, per favore, dai. Sì, rimini, rimini. Ah, no, da, 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 faccio una cosa. Se adesso dico l'inizio, tu tra cinque minuti la finisci, porco. Va bene, metto il timer con mi band. Ti è promuoto. Ok, vai. Comunque anche Iron Grande Appassionato di Rimming. Sì, sì, di Rimming. Sì, sì. Mi piace... Quando è incrostato, proprio. La scacella. Ah, no, 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 no. Ma... Iron, c'è un combattimento. Ah, gli agguati non si possono usare le carte, ok? No, no, perché anche da parte mia è agguato. Arti, posso dire che concordo. È doppio agguato. Ma lo sei stato tu a tirare fuori l'argomento. Comunque, Luca, io non volevo combattere, volevo solo passare. Nemmeno io. Eh no, io volevo solo passare, quindi è andata bene. Vabbè. È successo molto. Era la strada più vicina. E per me che ci devo ripassare io? Se sei ancora... Eh, ho capito. Per curiosità, Chetty, che ha segnato va a Roma? Ma che palla, ma perché eri lì? No, vabbè, non è possibile. Che tu coglione, allora. Dato non voglio farti male, io spero di non farti male. Eh, lo spero anch'io, perché anche io non voglio farti male. Però tu hai più dadi, non vale. Mi dico uno stupro. Beh, che dire. Beh, che dire. E lo padre... No, com'è? No, no, anche te no. Com'era il group? Shrek della Sonic? Shrek della Sonic? No, 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 no. Zitti, zitti, zitti. Gloria di Dio padre. Allora, per chi fosse interessato alle cose che non possono essere lette sul canale live, iscriviti in privato a me o a dad. Su Telegram o su Instagram, dai. Mas e te sei invisibile? Ma io sono a casa di Dio. Come? Mas, ma tu sei un bastardo, fatelo dire. Sei un grandissimo bastardo. E ti vai a mettere lì, adesso ti devo menare di nuovo. Ma muori. Ayrus, se vuoi morirci, so cazzi tua. Ti devo dire. Che colpa mia. Mas, sei invisibile. Mas, perché sei invisibile? Sto pensando, stai zitta. Un cartio mi intendevamo proprio no. E noi in privato, su Telegram. Tanto... Per il nostro canale dei meme. La canzone di Max Pezzali, quale? La gloria di... Di Dio padre? Mas, sei di uno invisibile, dimmelo. Sì. Ok, allora niente. Che cosa vuoi tirarmi addosso, maledetto bastardo? Mas, era una cosa bella, ora ero tra tiro più. Sì, sì. Ma questa co***a. Veramente frate alpisello, vediamo. Disco, è un pazzarello, intanto si chiude. Ah, rotta per casa di Dio. Chiuso sei, ne lo sa che se bruciate le carte attacco quelle prevato, prendono sopra la difesa. Esatto, artio. Ah, io non sei cosciente che sei appena morto? Sì. Dipende. Forse è meglio così. Ma insomma. Oh no, Luca si farà dieci turni col mago, essendo il boss prestigio, vero? Ma guarda, per quello che è capitato prima, come... Cosa? Comunque mi fa di pensare che è franzo alla regola dell'amico e si... che si sposa con la sua migliore amica. Ma che giro che sto chiesto che ha segnato ma a Roma, te muovi? Te lo dico io, Masa, perché sono bravo e lui no. Il re ha fatto sbagliare una misteriosa nebbia. Tutti gli eroi guadagnano invisibilità fino all'alba, che non vengono scoperti. Fino all'alba, c'è sì, o fì... scoperti. Non sono consentite battaglie fra eroi fino all'alba successiva. Meno tre prestigio se sfidi il re o attacchi un altro eroe. Tenete. Comunque, Masa, Florenzi e Geko. Florenzi e Geko, assist. Geko e Under. Ma vaffanculo. Clivert di merda. Sembrava forte all'inizio stagione. Ma andatevi un affanculo, dovete andarvene, figli di merlo. Che cazzo vuoi da me? È sempre quello. È Luca Bastazze. Oh. Dai, eh. Mi siamo capiti. Accordo infantile. Quello ho letto io. Comunque nulla, tornando ai terrapiattisti, c'era questo... Questo youtuber, no? Nella sua vita privata è un chimico. Ok. È tipo una persona incredibile, no? Una persona incredibile. Ed era lì perché voleva... Fare del sesso. Voleva insultarli. Che padre ero. Dado, la devi smettere, però. Eh, non sapevo che eri lì. Ma di no, siete peccati. E questo qui fa il coglione che devo fare. E quindi ogni volta interveniva quando diceva cazzate, no? Qual è la parte bella? Che ogni volta diceva di averlo smentito, però in realtà non rispondeva. E quindi nulla. È stata una diretta di tre ore, tipo, in cui lui diceva, no, non è vero. Ti ho smentito, stai dicendo ben insomma. Ti ho smentito. E mi ha fatto molto ridere la situazione. Immagino. Che si fa? Che si fa? Poi c'è stata la parte con la teoria dei giganti e lì ho smesso di guardare. Ah, hai giocato un pericolo. Fascino. Fascino. No. Non è le prove. È il turno di mercurio. Potrei dire... Maserati MC. Comunque sono passati sette, ma addio. Bravissimo. Ottimo. Ma c'è già qualcuno che va a fare la live e li mette... Potrebbero far di peggio tagliando la live. Ah, no. Abbiamo detto addio tipo 16 volte. Con tutte le volte che dico Maremma puttana potrebbero fare di peggio. Oh, sì. Con tutte le volte che zultiamo Marco potrebbero fare di peggio. Marco, sei proprio un cane. Marco, sei veramente bravo a prendere i piselli. 60% per la missione. Ah, piglia un ghoul. Presa. Un ghoul? No. Ah. Ragazzi, mi ci fate un favore? In questo momento. No, no, no. Dico la rachat. Andate sul nostro Instagram. E scrivete... Nell'ultimo post scrivete nei commenti... Marco, poi ricordati. Come? Per favore, ce lo fate sto favore. Nel nostro ultimo post. Marco, poi ricordati. Poi ricordati. Perché? Poi ricordati. Perché no? Lo mando in confusione. Marco, poi ricordati. Mi raccomando, ragazzi. Tutti quanti? Sì, sì, Arti. Sì, ero tutti undici. Non vi preoccupate. Quanto forte. Il tridente del mietitore. Il tridente d'Archow. Ma ci sono rimasto quando l'ho visto. Tutti quanti. Adesso vado anch'io. Sì, sì, vado anch'io, ragazzi. Marco, poi ricordati. Mi raccomando. Allora. Allora, eccolo qua. Non serve nemmeno cosa facciare. Marco, poi ricordati. Bravo, lo vedi. Siamo voluti. Vediamo se viene danno. No, non viene danno. Siamo già in quattro. C'è Simo che lo tagga direttamente. Questo è molto... Simo è bravissimo. Mi raccomando, ragazzi. La prossima sarà su Branky Prosciutto. Un'altra volta. Questi ci bloccano, poi. Non l'anno già fatto. Gli scriviamo una roba in codice. Tipo, uno gli scrive... Allo? Un altro... Shake della Sonic. No, no, no. Non continuarla. Capi, facciamo... Perché non mi fai più paggiare? Perché sei negro. Oh no! Oh no! Ma perché, Mas? Non possiamo esportarla, Mas? Ma perché, Mas? Ma perché, Mas? Ma perché, Mas? Allora, se vogliamo essere... No! No! Zitto! No, no, stai dito tu, aspetta un attimo. Se vogliamo essere persone coerenti... Guarda, ma... Quella parola... No, la parola con la N non è una parola denigrativa. Stai zitto. E poi si dice denigratoria, però stai zitto. Stai zitto, non lo è. Perché? Airo, 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 ti pre... Airo, per favore. Ma lo è negli anni 40. Basta, Airo, è già... Esatto, scientificamente è trovato. È già morto. Scientificamente è trovato. Come si cazzo? Ragazzi, ovviamente chiedo scusa, non mi tutti mi corso. Ma basta voi due che mi trovate. Ma... Non l'ho detto con intenzioni cattive, mi è scappato. No, ma... Ma infatti... Allora, ragazzi, è slang, però... È scappato. Sappiamo che siamo... Fra di noi siamo persone immature e non ve la prenderete per cosa del genere. Cazzo, sto piangendo. Ovviamente questa... Ovviamente questa live è reeditata slash bloccata. Ma... Se volete salvarla... Questo è bello della diretta. Maremma. Salva. Eh, vabbè, Aolo. Esiste, esiste. La madonna di Tindere. Lo so, lo so, lo so. Sì, 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 no, no, è facile. No, 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 però calma per il... Dove può puntare sta cosa? Tanto ormai... Sto piangendo anch'io, porca miseria. Solo hai... Live Maledetta 2. Arti, un altro non mi ricordo se avevo mai inicato la Live Maledetta. Sarà fatto, poi. Ma esiste ancora quella Live? Certo che esista ancora, nel mio Cloud esiste ancora. Ce l'abbiamo... Ce l'abbiamo in più persone quella Live, lì. Sì. Luca, a te ce l'hai? Grazie, due dati mi deve uscire uno scudo. No, 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 non lo so. Dai. Allora te la vari. C'è una in Spagna. Ah, pensavo delle Live Maledetta, scusa. Una copia di Spagna. Uno scudo per cortesia. Masi, non ti vede niente. Uno scudo per cortesia. Ah. Eh, non stiamo vedendo. È in fondo al mio cuore, Arti. È in fondo al cuore di tutti. E ora, missione. Che eravamo abbastanza priari. Eravamo abbastanza presi bene. Sì. Eh, Masi, io non ti vedo. È perché è la missione che ho fallito. Masi, non direi mai più una frase con perché, poi qualcosa dopo. Per favore, non farlo. Va bene. Taccio. Che parco. Ho perso la missione, amici. Ragazzi, ovviamente, se ne siete presa, scrivetecene noi per vedere una rimediare con un sex tape di Airo. Di monitor. No, no, di Airo. Se volete posso fare un buco nel muro. In priori o di alta muro. Luca, hai rotto il cazzo e ti addico. Eh, punto. Se no, c'è una fontana. No, zitto. Con la testa di un leone. Con la testa di un leone. Con la bocca leggermente aperta. Se siete nei furri di pietra, io posso... Se siete dei furri di pietra. Nei furri di pietra. Cosa vuol dire se siete dei furri di pietra? No, se siete nei furri di pietra. In su nel senso inglese. E con i pietra di alta muro, sì, sì, prende i cazzottini. Che sono delle rosette ma fatte a cazzotto. I panini duri fatte a cazzotto. Cazzotto, tipo rosette. Mi piace che stia affrontando un pericolo da tre dadi tirando le pietra. Sono due. No, no, non faccio tiri sui pericoli. Oh, sicuro. E anche volato un altro di quei cosi. Che l'ha matato sulla montagna. Questa è mia nuova, hai visto Arti? Sarà la nuova categoria su Pornhub. Ah, mi attacca. Ma magari ti ammazza, oh. Ah, con quattro di vite dovrei farmi un po' di scudo. Non è vero, in realtà mi faccio solo... Vi ricordiamo il nuovo comando. Perché questi ultimi cinque minuti mi sono passati come due ore e mezzo, ragazzi? Questo qui è il nuovo comando. Se volete... Devo fare il comando scusate in cui mi scuso con tutte le religioni etnie. Ah, il comando paraculo lo vogliamo chiamare. Comando sorry. Eh, sì, perché ti ammairo. No, finalmente c'è schianti, Luca. No. No, anche lui, però. Ho il comando per supportarci anche sull'altro canale. Non è vero, perché non è vivo? Su canale dei rio. Ti ha un dato difesa. Ah, non l'avevo visto. Non è stato difeso l'ammazza, però. E il veneno è sovravvissuto. It's daytime again. Siamo all'alba del quattro giorno. Dawn of the fourth day. Comunque. Ok. Giustamente quando risponderebbe questo? Cercello. Cercello. Aspetta, ora voglio andare nel posto a vedere... Vabbè, dai, facciamo questo. No, no, siamo in cinque, Dado. Siamo in cinque. Ah. Ok. Ale, perché non l'hai scritto? Eh? Oh. Ale. Eh? Michiro. Anche te. Che cazzo fa? Michele Robertini. Michele Robertini. Io non mi piace questo tuo comportamento. Che è Michele Robertini? Ah, però non mi piace questo tuo nome. Eh, Michiro. Si chiama Michele. No. Si chiama Robertini. Non si chiama Michele. Capito, Michiro. Ma non si chiama Robertini. E Michiro dice niente, dormo. Ma come ti sei perso il momento N, eh? Non ripetetelo, però. Il momento. Il momento, no. Politica di scorretto. Il momento, politica di scorreggio. Esatto. Maremma, maremma, maremma. Allora, lì c'è Dado. No, 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 non l'ho perso. Quante N, no, no, non l'ho perso. Ma sì, dai, ma mettila su YouTube. Ma chi cazzo sa, deve andare a vedere. Soltanto perché ho detto... Ma nel senso... Miche è colpa nostra se siamo così. Cioè, sì, è tantissimo. Ma non c'è colpa nostra. Dei nostri genitori e tutti quanti. Però... Di chi non ci ha picchiato da piccoli, eccetera, eccetera. O chi ci ha picchiato da piccoli. Sapete di chi è la colpa? No. Internet. Quindi, prendetevelo con lui, non ne frega niente. Sto sudando freddo, io. Eh, come si accomola magia? Secondo me Dado sta... Eh, devi avere... Io sto stringendo... Io ogni parola che dite sto stringendo il culo, ragazzi. Che bello, bello. Uh, devi avere spirito. E ogni notte la mattina ti si ricarica fino a quanto spirito hai. Ma ha visto una figa. Una figa. Vai, esploriamo. Colpa dei giornali. Eh, guarda, nei ultimi tempi è anche vero. Però lasciamo perdere i discorsi politici che non ci appartengono. No. La colpa è di GTA V. I videogiochi. Perché GTA V ti insegna a prendere... Pugni le signorine. Ma se Mase vorrei invece riferirsi... Ma guarda, è le connella. Aspetta, aspetta, ma scusate. Ma se Mase vorrei invece riferirsi a cioccolato che inizia perenne, però non c'è la G in mezzo in quel cioccolato, capito? Il problema, guarda. Che ne sai tu? Come no, è la gianduglia. È cioccolato scuro, però con la gianduglia in mezzo. Eh sì, ho l'ora, c'è anche la versione canino. E fa... No, comunque... No. Oh, Mase che combatte contro un uccello. Uno ce n'era, di sp... Dai, uccellaccio. In... Oh, sweet, trust... Ma scusami, gli spagnoli come fanno? Dai zitto. Non è una domanda da fare, eh. Non è il luogo nel momento per fare questa domanda. Perché ha fatto ci ritroiamo a bannare? Con quant'altra tristezza, vedete? Lo sai che è vero. Nel live, maledetto. Erano scappati apologie naziste. Erano bestemmie verali. Però questo no, capito? E pam pam pam! Pam 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 pam! Mamma mia, non si è liberato. Manca avessi fatto il beta tester. Questo lo posso dire? Sì, Mase, è un lavoro il beta testing. No, io crede un altro beta tester. Mase, non dirlo a Twitch. No, no, non dico a Twitch. Lo dico a Gianfranco Twitch. Cazzo stai per dire, Mase? Perché devo stringere il culo? Ma l'ho detto a Gianfranco? Sì, no, no. Ho avuto molta paura. Manca, avessi detto porco di sossato. Allora lì ti posso ancora capire. Ragazzi, ogni parola che dite, sto perdendo sette anni di vita. Torno un feto a fine live, ragazzi. Cosa hai fatto? Allora, devo andare alla missione che è qua giù. Andiamo qua, andiamo qua. Le palle! Der pollo! Feshtate sono. Maremma! Comunque, comunque, per i fan più accaniti, esiste un canale secondario dove streamiamo Fortnite 24 ore su 24. In questo momento siamo su Fortnite, sono nella top 10. Ho fatto 98 kg in questo momento nella partita. Manca uno solo, praticamente. No, ci siamo nella top 10. Ne ho fatte 10 in più dei giocatori che ci sono, Mase. Perché c'è una tasso d'accesso per entrare nei campamenti? Chiedi al capo prestito. E' ditto. Ma è dittami la fava, Luca. L'altro era peggio. Fidati. L'altro perdevamo una marea di vita a tutti. Soprattutto Mase, per la putrefazione. Io non ce l'ho putrefatto. Tu sei putrefatto. Tu avresti perso un sacco di punti vita. No, li ho guadagnati dopo. Li ho guadagnati perché mi ha sfidato l'una pensione. Ma su sette cazzo di dadi. Ma è vero. Ma su sette cazzo di dadi. Due bori non c'erano. Dio. Mase, conta 5 minuti. Sì. Ok. Airu, che cazzo vuoi? Non ho detto nulla. Povero Airu. In who sweet trust... By the power of Dundee. Beh, che dire. No, Airu, stai sito. Se vuoi parlare, offendi Luca. No, offendi Luca. Per favore, non voglio l'infatto in live, Dado. Lo voglio vivo e sano. O sano e vivo. O vivo e vegeto. Oppure solo vegeta. Oppure solo vegeto. Oppure vegetale. Vegetariano? Mikro, perché cazzo ancora ne ha commentato il post, eh? Mikro. Che cazzo fai, Mikro? Anche te, anche te. Oh. Beh, mancano anche... Ne è che stiamo qui a piacci per il culo, eh? Eh? Mancano anche i famosissimi. Un pochino. Mancano anche i famosissimi. Maserati MC91. Eh, Mikro non ha Instagram. Mikro è dove lo viste, da chi lo viste, le storie con le troie. Manca... Manca anche... Il signor Gioja, Lurx, Propocrevo Crednu, S1 Faka. Ma stanno andando a vedere i nostri followers? No, gli spettatori. Ah. Allora... Manca anche o etam o etam o etam che c'è sempre, però non parla mai, è incredibile. O etam io mi vergogno per te. Devo scegliere per te. No, però... Magari sono felice. La tastiera rotta, bastardi. No, no, ma io sono felice perché c'è sempre, io lo vedo sempre. Che cazzo? C'abbiamo... Ah, c'erano pochi pericoli sulla mappa, ne è vero, Luca? Eh, volevo sentire voi, non vi assortavate o messe pericoli. Quest'uomo è un coglione, quest'uomo è nato da un coglione, non dirà il coglione. Eh, oh, parlavate di o etam. Scusa, dobbiamo parlare sempre di Fortnite, per caso? No, ci sono anche le persone che ci seguono sempre, bisogna ringraziarli. Ciao amore, è arrivato anche amore. Da quanto tempo lo avevo? Ma o etam non ci caga, ah, ma qui c'è un combattimento. Cazzo, 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 cazzo! Fanbook, 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 fanbook. Amone! Grazie Amone! Sei bellissimo. Comunque, Luca e Mase, leggete Telegram un secondo e commentate il silenzio. Non ho capito però, si spieghi. Non ho capito nemmeno io, però. Vabbè, voi non leggete tanta voce, mi raccomando, perché sono cose sul Marco e dopo si offende. Sì, no. Meno male! Perché devo estrarre otto carte? Ah, ok. Va bene. Comunque tocca a Dairon. Sì, sì. Ah, ok. Ah, ma etam, grazie. Ah, ma etam, come dice, perché vediamo sottofondo mentre giochi hai giochi pornazzi. Hai visto? Quindi, vedi che lui c'è sempre. Stiamo all'audio di dopo. Ehi, controlemme! Controlemme! Mamma mia! Mamma mia che belli che siete. 16, salve a tutti i riders e benvenuti nella partita dei furries. La furries match. I furries. I furries. Aero. Crosta, mette, fanno un barra. Su pettinei, mi so cacato! Perché? Perché ho detto un'altra cosa. Invece di Crosta, avresti detto Cristo? Mi so cacato, regà. Fabio Pelato. Fabio Pelato, sì. Arnello è bello, così come il mio pisello. Esatto. Ciao, Taichi! Ciao, Taichi! Ciao, Taichi, che bello che sei. Ciao, Luke! E' tutti spettacolari, regà. E non so che dirvi. Eh, devi giocare il tuo turno. Esigna tesi. Allora, dato che siamo tanti adesso, ripetiamo la cosa. Se andate sul nostro post di Instagram, dovete scrivere... No, no, dopo. Dovete scrivere... Com'era? Marco, poi ricordati. Marco, poi ricordati. Mi raccomando. Nel nostro ultimo post su Instagram. Esatto. Potete anche taggarlo. Instagram che trovate... Potete taggarlo, fate quello che volete. Che trovate qua. Ora finisco il mio turno, perché altrimenti mi sbranano. No, no. E ragazzi, vi ricordo anche che dopo ci sarà la notturna di Aero. Sì. Su David May Cry 5. Più o meno, poco dopo che finiamo questa live. Sì, fate conto, un quarto d'ora dopo c'è la live di Aero. Sì, più o meno, sì. Ragazzi, mi raccomando, dovete commentare tutti quanti. Ho commentato anche io, questo non mi rompete il cazzo. Bravo. Dobbiamo confondere Marco. E guardate anche io. Mi raccomando, andate sul nostro ultimo post e scrivete Marco, poi ricordati. Allora, fammi prendere il mio account. Ho giocato Infa dello Wild. Ah, è arrivato ora il... Grazie Makuyasha. Scusa. Eh, c'ho stato Makuyasha e è arrivato l'Avert. Grazie Makuyasha. Dai, 60%, dai, 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 ok. Grazie, purtroppo non potete vedere tutto perché questo gioco... Ah, dato, sono passati 7 minuti, porco. Ok, grazie. Comunque, come potete vedere, io e Maz siamo arleati. Prendiamo uno di oro per turno. Prendiamo il cazzo insieme. Però Maz è anche un traditore. È per colpa di... Luca S o S o L Spadoni. Sì, ma sta sopravvivendo all'infinito. O Thor Finto. Sto giocando troppo bene. Che è lui? E ma se ce l'ho di nuovo sto bastardo rotto in cuore. Io voglio farvi ricordare che abbiamo fatto solo una partita... Cioè, non è ancora finita la prima partita. Ah, ero sempre così, ne facciamo sempre una. Io ricordavo una e l'altra ce ne sono state due. Ah, ero, tu ricordi male. Tu ricordi le cazzo male. Questo, questo pensare su cazzate. Questo pensava a toccarsi il WiiWi. No, stavo pensando alla fontana di cui vi ho parlato prima. Ah. Con camici che commentate, siete bellissimi. Oh no, a tutti quanti. Grazie, grazie. Intanto, Luca è in missione. Luca è in missione e perde un cuore. L'ha fallita? Fallito. Luca? Ha giocato un pericolo. Luca ha perso il dono della voce. Luca ha perso? Luca? 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 Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Luca? Eh sì, che non può parlare. Menomale. Allora. Ma chi tocca? Ah, ero, ok. Ah, ero, che è invisibile. Quindi è impossibile da... Hai capito? Sono invisibile dalla partita, perché ho paura. È morto. Ah, no, dopo non abbiamo mica fatto l'assicurazione, scusate. Cazzo, la dobbiamo fare. È morto sul... Conta com'è morto sul lavoro se non muore mentre streama? Eh, no. Ok. Che palle, ma se dai, perché dipende? Dai, spiegami le tue doti... Da... Ti prego, completa la frase. Avvocato. Perché siamo affiliati, non siamo partner. Quindi se siamo partner di Twitch, possiamo dare colpa a Twitch dalla nostra morte. Esatto, potremmo fare causa a Twitch in caso. Dai. Eh, allora... Quindi è leggero il contratto. Amici, portateci 75 cristiani a live, mi raccomando. Sì, sì, anche 5.000 follower, per favore. Poi potete anche andarvene. E perché no, anche un pezzetto di culo. Un buco di culo, visto da Luca, piace il rimming, ricordiamo. In sacrificio, dice Makuyasha. Esatto. Sì. Pacific rimming. E lui dice, non avvicinarti così, non c'è nessuno. Pacific rimming. Tua madre ha fatto un errore a darti la vita. Eh, ma sì, io lo dico tutti i giorni, non so. No, no, ce l'avevo con Airo. Ma anche con me, ma sì. Ma sì. Iniziate a fare Fortnite ogni giorno, guarda, piuttosto mi grattuccio il sottopalla. E lo metto sopra la pasta. Io ho già proposto tempo fa. No, ragazzi, era meglio quando non parlavo. Ah, se vuoi continuare a famare molto. Avevo già proposto tempo fa di fare una live di Fortnite per vedere cosa succede. No. Perché quella che abbiamo fatto, vabbè, è stata... Airo, non mi interessa. Che succede? Che mi prende un male incurabile. Sono solo curioso di vedere quanti bambini arrivano a chiedere... Hai dato quattro dadi, testa di vita. Sì, lo so. Posso giocare? Come ti chiami nel gioco? Mi unisco? Sono curioso di quella cosa lì, vi chiedo. Airo, a nocturna, fai su Fortnite. Penso che se succede, Sairu verrebbe instant bannato dal canale. Non gli conviene, diciamo così. Dai, faglielo fa. Non voglio veramente quanta gente ci vuole. Non è che a quest'ora stanno tutti quanti a dormire, non è che... No, ma non oggi. Che fassone? Giuseppe! Giuseppe! Giuseppe si è resalvato. Grazie! Otto mesi. Grazie Giuseppe Lama... Giuseppe Lamarca. Ha sottoscritto un abbonamento livello 1 per otto mesi. Attualmente in un decorso di otto mesi. Un decorso. Come fa Giuseppe ad avere più mesi di me? Airo, ti devo dire. Questo qui ci ha rubato un mese. Giuseppe, esci i soldi. Questa è truffa. Tu continua ad andare a giocare i pericoli? Vabbè. Questo qui è un coglione, ragazzi. Eh, devo. Eh, devi. Allora, devo andare di là, ce ne sono tre. Spero... A fa muc. Ci godo, cazzo. Schianta, schianta. Schianta, ma non è morto. Non è morto. C'è il culo di Faderbeck, questo. Ma ho pensato io con un editto, ai fulmini. Ma è dittami il pisello, Luca. Anche, è dato molto volentieri. Ah, no. Cosa? No, no. Mi piace. Il re dichiara a tutti gli eroi nemici del reame e mette una taglia sulla testa di ogni loro. La corte del re sta rivelando i segreti nascosti di tutti gli eroi. Tutti gli eroi subiscono meno tre prestigio. Eh, questa cosa mi influisce tantissimo. Quindi no, mettiamo una taglia. Senti io, c'è il terrore di merda. Ah, io già l'avevo la taglia, quindi non mi capisco. Esatto. Comunque, ragazzi, vi invito pubblicamente a discriminare Giuseppe Damarca. Perché è... Di dove è Giuseppe? Di Bari? È di Roma. È di Roma. È di Roma. È di Roma o in Puglia. È comunque Pugliese tifa Roma. Io non capisco. Io non l'ho mai capito e non voglio capire. Dado, 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 io sono di Napoli e tifo Inter. Ma quello è già più normale perché sono quelle squadre che tifi perché hanno vinto in passato, sai no, da bambino vedevi vincere. Ah, che bello, pure la tua famiglia era di quella squadra. Ma la Roma. Giuseppe, la Roma. Io sono di Altamura e tifo Chievo-Verona. Pam. Pam. Ti ho metto una taglia. No, tifo il Palermo. Eh, mi ha attaccato lui. Sì, lo so. Quanto taglia hai? Tu ormai sei al basso. Quando ero piccolo conoscevo un calciatore che si chiamava Miccoli, solo lui. Fabrizio Miccoli. Solo lui conoscevo da piccolo. Non so perché, mi sa che su, tipo, su PES 06 tirava fortissimo o qualcosa del genere. No, quello era Adriano. Che cazzo di PES ha giocato? Eh, ma se, ho detto, forse PES 06. Non ti fa il bari manco per finta come me, pistolo. C'è una sciacinio. Bravo, Airo. Bravo, Etam. Ma età di Cesaro di nuovo è tifo viola. Cosa? Neanche chi è di Firenze ti fa fiorentino, Etam. Perché lo fai? Miccoli amico delle guardie. Dai, 60%. 60%. 60% a Cercello? Vabbè. Bello Cercello, ma no. Fortnite Battaglia Reale. Ho vinto. Cosa? Stai dicendo nominare fortemente, ma... Mi ha portato fortuna. Che culo, Airo. E adesso mi nascondo. Ma è un pericolo se non la nasconde. Ma questo che è veramente un coeripi a tutti. Ho fatto un errore. Se li tanka tutti. Quanti, immagini che me lo passa pure. Ma no. Arra perso. Ma Luca va a mettere... Luca va a mettere 8 pericoli a notte. Che cazzo non ci devo fare? Airo, sei tu che vuoi giocare con Luca. Comunque ho sbagliato a dirlo. È morto? No. Almeno 8 per notte. No, no, no. Non muoio. Cioè, quindi vuol dire... No, vuol dire che se ce ne sono 6, ne mette 2 per arrivare a 8. Non è che ne mette 8. No, almeno 8 vuol dire che te ne mette 8. No, mette pericoli per arrivare a 8 o di più. 30% ma che cazzo vuol dire? Che statistica l'hai fatto? Scusami. Su spirito è andato. Ma vedi che sei veramente uno shrek. È Mase, non è che l'ho fatto a posta, è Maremma. Mase, io l'ho dovuto fare di metterlo su spirito perché ho le mani... C'è a 3 di magia e ho 2, no? Sono un messo male. Che poi da Shrek della Sonic siamo passati a Marsh della Sonic. Eh sì. Amici, se volete il nostro canale segreto con 700 iscritti su Telegram, scriveteci in privato a me o a Dairon. Grazie. Esatto, esatto. Uh, hai il tizio con le mie pericoli, Mase. Vi lascio il contatto del mio Telegram per tutti... Una spada e uno scudo, per cortesia. Vedo la spada e vedo lo scudo. Voi? Guarda, ci metto anche il mio a questo punto. Gravissimo, Mase. Questo qui sono io su Telegram, mi raccomando. E questo qui... No, non l'ha preso. Se volete importunarmi, io ci sono. Ah. E' difficile sta partita. Copia. Ecco qua. Allora, Luca S. Cosa fa? No, magia. Non posso fare nulla, niente. Sto qui. Che giorno siamo? E' al penultimo. No, non so. No, ha tre punti vita. Abbiamo altri tre giorni. Ma che me ne aveva tre? Ne ha tre, ma... Ragazzi, un carerai si prolungherà un filino per ovvi motivi. Allora, in pratica lui perde un punto vita ogni mattina e aumenta di un putrefazione ogni notte. Ok. Sì. Ora, quanta potrefazione è il re sette? Allora... Ayrou, è tutto le palle di essere invisibile. No, non è... Sei l'anti-live. Forse per i live, cosa dovremmo fare? Dovremmo fare la... Una cosa tipo... Con l'opzione non invisibilità. E infatti, se c'è, bisognerebbe metterla, se... Eh, dalla prossima. Ayrou? Attenzione. Per una volta Ayrou ha effettivamente attaccato qualcuno. E non è... Ovviamente, vediamo. Minchia. Eh, vabbè, Ayrou. Dimmi. Ma cos'altro lo vuoi? Un dito nel culo lo vuoi? No! Per il rimming? Sì. No, poi è difficile. Per il rimming mi ficchi pure il dito, dai. Mi ficchi pure? Eh, vabbè, Ayrou. Ayrou, ma ci vai a leccare i cani, per favore. Scusami, dovevo dare un po' di... Ma scusami una sega, Ayrou. Ora mi recchi le piante dei piedi. Stato non ha detto va bene. È morto il mio accordo mercantile, no? Eh. Ma rimma. Eh? Luttana? Sì. Ah. Ne ho tre dopo, sopra. Dai, dai, facciamo un altro. Sono le 23. Madonna. Ok. Eh, metto il timer un secondo. Eh, c'era pure il pericolo. Mmm! Non c'è un cazzo, vero? No. Dei fare due... Dei fare due punti di... Dei fare due punti di... Dei fare due punti di... Attenuto poi a dove vai. Ma porca puttata. Ma vabbè, recami il buco del c***o, va. Sì, facendo così ha tolto la tarda, ma adesso è avvelenato ed è in una palude Eh Luca, lì c'ho la missione a rompere il cazzo e le avete da coglioni, eh Sfa così E io qui devo stare Eh, qui devo stare Eh E vabbè Luca, una forza di travoi pure Beh dai, devi fare due scudi, dai Vaffanculo No, ti dico più niente, allora fottiti No, ma scusa, io non ce l'avevo con te ce l'avevo con la situazione Beh dai, a meno lei Perché sono morto Sì, anch'io È il veleno No, sì È il prossimo turno, sono morto Eh no, sei già avvelenato, quindi il meno uno l'hai già preso È vero È il prossimo turno sono morto Sì Beh intanto ti godi il tuo prestigio Evviva Me la fa fare? Ah no, è morto No, sei morto Mase, posso anticipare a un minuto e venti, per favore? Eh sì Puttana Allora Dov'è? Furri Eccoti Mase Furri Ma io sto pensando che quasi quasi si vada al re No Mase, ma aspetti ora Va bene Grazie Non me lo dimenticherò Luca, tu c'è schianta e cosa fai? Aio Cosa fa? A me fa morire Aio quando si schiarisce la voce Proprio ci va di diaframma, no? No, è brava Io ho un problema da, tipo, quanto, tre mesi Ho un ammasso di catarro in gola Che non se ne va mai Ahiru, così impari a fumare Dato il problema è che io non ho mai toccato una sigaretta A sto punto sto pensando di iniziare a drogarmi Eh, quanti dagli attacco E Luca, pure due titini e culoli poi La cosa bella è che muore Sì, sono morto Non è cambiato nulla Cioè, a sto punto mi inizio a drogare delle peggiori droghe Almeno sono giustificato Almeno me lo merito Annesi di droghe ti viene il catarro, eh Non si è un problema Mi drogo anche con un tabacco Sono corrotto Beh, lo eri già No, ora sono proprio corrotto Sei un po' ritico, Luca? Spero di no Eh, sei comunque il cavo a prestigio Ma maledetto schiercello Il re ordina le sue parti Niente, ho basciato e non mi ha detto niente di questo schifo Airu, pensi sempre sull'arte La notte seguente Le guarderessimo con altri fragelli Il capo del prestigio scarta le carte Rimescola tutti i mazzi E vengono distribuite carte casuali Costa meno due prestigio Oh cazzo dado Sentire di remasi furri Mi ha banenato l'idea malsane Di definire remasi il furri di Napoli Oh, ma che vi state Proprio la mascotta La mascotta a forma di coniglio Con la maglietta azzurra del Napoli, no? Ma vedi a sta guardia Ma vedi a sta guardia E con sacco del sudicio dietro Tipo Il ciuccio sta arrapato Come ne va se Cosa? Cosa? C'è sto meme che va avanti Da un po' sui napoletani Che dicono che il ciuccio sta arrapato Non lo capito ancora però Ma che siamo diventati i sardi adesso Ho capito che non prenderò danni Ma neanche lui O forse uno Uno glielo faccio Che culo Tiè Un, due, tre Stella Però si è piantato là Dai, levati dal cazzo C'è un attimino circondato Tra l'altro Vai Ai, bu Sì Che cazzo mi serve? Rega, sta birra è la stessa temperatura Delle mie palle 32 gradi Fallo Le tue Via stusce Ma non lo taglia Io lo attacco Così la prendi Te la taglia Ci proviamo Ce l'avevo già Ce l'avevo già Ok Domina perché? È perché Luca è un bastardo Ricordiamo L'ho data io Ah sì L'ho data Luca solo tu L'ho data la mia nonna Ah no, quella morta Però Ha anys Iro Ci muoio però Eh sono morto però Almeno l'ho uciso Mi porto un cane nella tomba Il tuo cane? Ma magari lui no Però dai Ne fanno le sepolture Multiple Interraziali Come si dice? Cosa? non è possibile non è possibile stasera per specie semmai però dovete capire che ragazzi sono due settimane che io non dormo sto iniziando a sbagliare questo quanto della vita porca puttana ho detto non dati male e si entra non è possibile non è possibile ma prima si combatte maremma della maremma questa live io l'ho presa come la nottuna ragazzi dopo c'è anche la notturna di aero quindi non è una razzista internazionale perché sono racchi di persone e dai porca puttana cioè di come si dice di specie l'ha detto proprio male l'ha detto intendeva il suo cane giuse intendeva il suo cane il cane nel senso la razza umana la razza canina la razza maiale non so come si chiamano i maiali porcina no quelli suoi funghi no come che erano i maiali no zitto dai chiamavano maiali capito c'è la carne ovina la carne bovina la carne di maiali suina vedi suina si giuse però gli era uscito un po' male con le sue punture internazionali scopo dai un po' se tu ci pensi storicamente queste punture internazionali ci sono state le chiamavano fosse comuni ma ragazzi questa live è finita vi ricordo i nostri non ho detto niente di male le fosse comuni sono sempre rispostite maremma maremma che quanto sto sudando raga c'è una merda il peggio è passato stai zitto il peggio è passato devi ancora cominciare la tua notturna il peggio deve ancora cominciare porca puttana la vita è fantastica ragazzi no loro non ci fa caso drogatevi che la vita è fantastica drogatevi no bambini voi no adulti voi fate il cazzo che ti pare poteva piovere la vita è come un biscotto quando piove si scioglie quindi ragazzi stai zitto in gioco ma fatica ha bruciato una carta per un tiro di dado che non ha senso infatti non l'ho capito ma se hai visto non è colpa mia mi fa pure un insulta a israele ah no ho già fatto abbiamo sempre detto che gli stati non sono legittimi ci dobbiamo preoccupare di quello che possiamo dire durante le live ma allora è proprio vero è proprio vero un nuovo testamento non serve amici ho mutato l'audio del computer per questa live da ora in poi sentirete solo me allora ragazzi voi sentirete me parlare con nessuno intanto non ci fate caso sì Airo eh sì Airo sì Airo sono sicuro vi sentono se io parlo va bene vi smuto solo perché siete voi ah non l'ho tirato vabbè dai da non abbiamo detto nulla di male vi ha smutato oh la minchia che tiri e con lo spirito ma complimenti no 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 non ho più no al prossimo turno poi attacchi il re non poi quando entri non ha ti leva a tutti in posizione è che parli ma io voglio entrare ma possibilità una guardia ogni volta che devo entrare io vai da Dado uccidi Dado Luca ma perché non ti ficchi di uditi in culo guardando furaffiniti.net è l'unico modo che ha per entrare furaffiniti no non mi ricordo se era .com o .net vabbè dai ci ho preso lo sfondo che ho messo nel computer di Marco ragazzi vi dico solo c'entrava il bondage come sei ma in una full suite ma basta te le guardie che non vi colpite furaffi ecco vedi lo conosce anche hollow perchè ad Ollo piace la doppia penetrazione no ma io stavo deglutendo ancora la mia birra ok però guarda specifico la doppia penetrazione no comunque si a luca si c'ha l'account premium nooo quello che ti fa schericare i background in 4k le gif animate frame per frame tutta una situazione incredibile e i piedi i piedi i piedi stavo morendo ci stavo soffocando fortissimo minchia meno uno eh l'altro cioè l'altro era mi toglieva tre prestigio a me e dava più due corpo e più due attacco ma perchè l'altro è assurdo dato che siamo in tema no 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 qualche giorno fa ho visto un meme non so se era vero o era editato però comunque era su pornhub no e c'era la categoria descrizione audio una roba del genere praticamente è presente nei film quando ci sono i sottotitoli apri la porta e c'è scritto il rumore di porta che si apre allora sono curioso di vedere che cazzo ci scrivono allora sulla base di questo posso dirvi un porno che ho visto di recente se non è troppo ho visto tanto questo meme non verrà mai esportata allora tutti voi conoscete conoscete il sito fake taxi si si perfetto si perfetto praticamente c'era un video di fake taxi però ce l'ha scritto con i suoni di minecraft in pratica tutto questo video era fatto ma se l'incamelo ma se l'incamelo è bellissimo ti prego quando tipo sta lì che sta praticando lui a lei del sesso orale si sente lui che si sente il sonno di minecraft che beve quando è venuto era l'esplosione del creeper non so no quando è venuto era tipo il gocciolare quando tipo c'hai l'acqua sopra e hai messo un blocco no ho detto quel video va visto quando no sto zitto sto pensando al suono dell'arco che squacca una freccia ragazzi basta che cercate su pornhub lo cerco subito tipo fake taxi with minecraft sounds allora però che adesso spero lo facciano con spongebob fake taxi minecraft sound ma cazzo esiste cazzo esiste perché non devi dire una bugia scusatemi ecco commento ma poi se me lo fosti inventato con quale inventiva me lo dovevo uscire è morto discord ragazzi si stavano si stavano andiamo su coso veloce no andiamo su su ts veloce eh fin quando l'ho fatto mi sa che è finita ci provo ma sto coso di merlo connected user entered your channel dado channel switched ok e via ciao dado ciao allora dicevamo che dobbiamo vincere giusto ti hai vinto devo fare attaccare eh ha vinto deve sempre battere il re no ho fatto l'ho purificato ah no è locura è vero lui locura ragazzi suono fortissimo si ha vinto per cura per quanto si parla dell'altezza del pa vuoi lì in collo te lo mando in privato ora leggo commenti un secondo incintato incintato sono arrivato ultimo a parte il suono fortissimo now someone has to make minecraft with fake taxi sounds però ho preso di conoscimento immortale pacifista riccone stregone this place is the nut non sei mai morto te più che altro si perché avevi ancora tutta la la tassa si la taglia ma se dice che posso playarlo il suono si aspetta prima mi muto un secondo eh torno subito ciao sono altissimo qui corcatron adesso posso fare marco e sbatto le mani sulla schivania amici cari ci vediamo tra poco con la live di questo è il forno questo è il forno questo è il forno chi è? è Dardo? è Dardo? è Dardo aspettate ragazzi era vi ricordiamo che minecraft comunque c'era un gioco che poi si si stiamo piangendo perchè voi lo state vedendo potevo vedere il fio potevo vedere questa roba questo è questo è un teaser della nostra prossima live su Minecraft si c'era del rinno in super caso è qualcosa sulla sulla sull'organo femminile mi senti proprio il verbo in inglese ciao Makuyasha ciao Makuyasha sto piangendo ciao Makuyasha ragazzi vi ricordo che fra poco c'è il live di Airo ma io penso che mi muoverò da questo TeamSpeak eh e quindi niente ciao a dopo e continuerai il mio forno ovviamente ciao 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 ciao